Vai rotola, rotola uno, fermo guarda me, guarda il dito, di nuovo a me, io mi dite che ci siamo, ok, però alzare un po' questa mano così, che la vedo, che la vedo me, no, alzare invece da questa parte qua, no, così, guarda qua, ora, facciamo una cosa qua, una classicona così, ecco, pure che ti guardi, ti docerò, ti do farlo così, eh? Sì, 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 eh, lo sono ancora, ma questa è tutta, capito? devi fare un movimento un po' più stretto, come fai, come fai a prendere gli avanti, eh, tira su e poi apre tutto, la prendita è, ecco, da qui, la prendita è, ecco, da qui, da qui, da qui, cosa c'è? però, porto un po' più girato così, sono sorriso qui, con una mano, carina, con una mano sola, eh, quel lato, quel lato, con i cerotti, ma però così, tu fighissi con una faccia tutta così, che era, eh? stavo così così, eh? no, stai, no, stai, con le mani un po' più avanti, stai così, prova a farlo così, può farci come un po' muro, vai, aspetta, vai, vai, con le mani, aspetta, con le mani, ecco, così, ancora, così, carina questa, ancora, quello che tiene un po' più, suforte, questo, ma dove, lì è in condizione le braccia, perché se si, se non è un po' di sforzo, è un po' di sforzo, esatto, è perfetto, bravo, guarda, questo qua è un po' più imparante, sempre, 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 è solitamente dirigere un po' la schiena, e la direttura, dalla schiena, e la terresta è, con il profilo, proprio, un po' più, girando dal filo, è fatto che, mi interessa il profilo, è tutto quello, qui, qui, lì, qui, la direttura, e il mio etto, non lo vede, può guardare su, questo, è un po' di sforzo, parlando, Grazie.